ben trovati alla rassegna stampa di tg plus per quanto riguarda la pagina di treviso partiamo dalla tribuna di treviso all'asse dei sindaci di centro sinistra dell'a4 vedete nomi conosciuti e non ma comunque si sono presi tutto l'asse la sottile linea rossa lungo l'a4 aziende in crisi nell'economia ha anche ecco il salvagente che evita fallimenti sono già otto le imprese che sono ricorse alla composizione negoziato mediatore sistema debito pasta zara e dopo gli ultimi esempi nella fotonotizia l'addio all'archistar portoghesi il padre del quartiere latino esclusione del voto per i leghisti insolventi tecnica gruppo leader europeo nel riciclare vecchi scalponi bollette rifiuti più cari dall'80 e dall'8 per cento agli aumenti sono retrattivi i colpi della gang dei giustizieri puniti altri due addescatori vediamo su gazzettino questa mattina dopo il voto schlain sotto assedio no day after della sconfitta il pd studia le mosse spunta l'ipotesi costituente conte campelargo inutile e la sanità sempre sul gazzettino politica e tv l'inedito aste tra lega e pd minacce no esercizio del diritto di cronaca si parla ancora anche di calcio sopra la juve patteggia con la figici solo 718 mila euro e 10 punti panificio no tax zero scontrini in tre anni ecco la finanza contesta parecchie migliaia di euro di evasione fiscale il corriere del veneto invece apre con una fotonotizia centro-sinistra nasce l'asse dei sindaci solo che loro non parlano dell'autostrada ma vertice possa mai tomasi giordani da qui propone forti su mobilità ambiente e turismo bici di russo presa la banda almeno 25 colpi ma almeno l'hanno presa a venezia il clima migliore merito della brezza marina azzannato da un doberman è grave in un'officina stava andando a portare documenti il cane l'ha aggredito e vedremo che cosa finirà come andrà a finire salone nautico la sfida sostenibile un'occhiatina si dà anche alla pagina di treviso di notizie plus vedete che anche qui il doberman ha aggredito quella persona in officina e festa della repubblica il programma delle cerimonie a treviso treviso fra le prime quattro città e open green leaf award 2025 questa è una bella notizia e poi al lavoro in bici o a piedi partono gli incentivi bike to work beh si vede conviene sotto tanti punti di vista andare al lavoro a piedi è tutto per riguardo alla pagina per quanto riguarda la pagina di treviso grazie a tutti 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 grazie a tutti